Il Giappone abbatterà i missili balistici qualora la Corea del Nord decidesse di lanciarli e intanto si prepara a ogni evenienza. Tokyo è il Ministero della Difesa protetti dai Patriot, il sistema antimissilistico schierato sulle isole e nelle zone periferiche significative, in acqua due caccia torpediniere. Il governo è pronto a proteggere la vita e la sicurezza dei giapponesi, ha dichiarato il premier nipponico. Il Ministro della Difesa conosce gli ordini. Il dispiegamento militare e il crescendo della retorica bellica, già visti nel 2009 e nel 2012, inquietano comunque la popolazione. Il fatto che queste armi siano così vicine è davvero spaventoso, commenta una diciannovenne, dai brividi lungo la schiena. Vediamo che succede, aggiunge un abitante di Tokyo, ma non credo probabile che ci attacchino. Data temuta dagli esperti, il 15 aprile, giorno della nascita del fondatore della Repubblica Democratica Popolare Coreana, Kim Il-sung, morto nel 1994.